Ciao tesori e bentornati sul canale, perdonatemi se mi sentite con la voce un po' strana ma ho una cervicale fotonica però ci tenevo comunque a farvi questo video perché voglio scoprire insieme a voi le due sirene che ho inglobato e questa là MEGA MAXI SUPER GIGANTE PLANCHET WISA Allora, sarò sincera, l'ho fatta un po' giusto per provare l'effetto dei flakes con dei pigmenti che avevo ma in realtà l'effetto finale mi interessa molto poco perché poi dovrò farci tutt'altro e spero di riuscirci stasera stesso così da mettervi il video domani o dopo domani Poi ho provato vari abbinamenti, qui ho fatto un esperimentino con un foil, poi vari glitter che mi sono stati mandati da Gea Creations perché come vi dissi in un altro video, da Gea adesso non trovate solo gli stampi per la resina ma trovate anche la resina e tutte le decorazioni per iniziare a creare con la resina Guardate, ci sono veramente tantissimi tipi che poi vi farò vedere nel corso dei video Scopriamo, ha i flakes, i glitter chameleon, flakes di tutti i tipi E soprattutto mi preme dirvi, visto che me lo chiedete sempre, ha i pigmenti che io chiamo i pigmenti magici Lo so, tutti i pigmenti sono magici ma questi sono veramente fantastici, sono quelli che utilizzo di più e li ha rimessi in shop Finiscono abbastanza in fretta, quindi se vi interessano, vi piace l'effetto, vi consiglio di acquistarli subito Io vi lascio il link di Gea qui sotto nell'info box Bene, adesso iniziamo Ho utilizzato appunto quei pigmenti per la mia fogliolina, anche se non so se potrò piegarla perché è un po' troppo tardi Ho fatto un po' di cristalli con la resina di scarto e uno con il pigmento che mi piace tanto Allora, come cristalli ho fatto questo Che non è venuto malissimo, mi dimentico sempre che poi i flakes andranno tutti sul fondo e l'effetto non è che mi faccia impazzire E poi ho avuto la possibilità di fare finalmente anche questo grande Oh bello, mi piace Ok, adesso vediamo questo con il pigmento perché non sono mai riuscita a finire a fare un cristallo così grande con quei pigmenti Quindi, vediamo Oh mio dio No vabbè, bellissimo, ve lo potrei immaginare dal vivo È fantastico Cioè, non riuscite a capire qual è il colore di base perché poi ogni lato riceve una luce diversa E quindi vi permette di vedere tutti i colori che può fare questo pigmento Cioè, guardate qui Questi sono in assoluto i miei quattro pigmenti preferiti perché sono quattro, almeno Gea ne ha di quattro colori E mi pare che questo l'ho utilizzato anche su questa luna Vediamo, questa luna mi sta piacendo da morire Cioè, guardate qua, sembra l'effetto che fa il petrolio, la benzina sull'acqua, oh mio dio Oh wow Allora, eccola qui e mi piace da morire con questo pigmento perché sembra una pietra, sembra lavorata con una pietra vera Poi guardate qui l'effetto, è stupendo No vabbè Con la nina, subito, subito Cioè, guardate nei dettagli come cambia il colore E come mette in risalto questo stampo, questo pigmento Vabbè, è stupendo Poi ho fatto, vabbè, alcuni dei miei stampi preferiti Che faccio sempre Quindi la foglia Che purtroppo è già abbastanza catalizzata Quindi non penso di poter piegare Ma ecco qui, guardate Quante luci fa questo pigmento Quanti colori In realtà piegata verrebbe molto meglio Ma no Ecco, poi mi dite Ma perché ti di fuori le creazioni prima? Eh, perché se non si può fare questo Vabbè, noi ci proviamo lo stesso, dai Eh, uh, ce l'ho fatta Guardate Quanto è bella così No, vabbè Adoro Adoro tantissimo Che bello Mi sa già d'autunno Poi ho fatto Il teschio di corvo Che anche questo fa parte Delle mie ossessioni Oh, wow Oh, guardate Guardate la bellezza E la perfezione Questo stampo Mi piace da morire Penso sia Il best stampo Teschio di corvo Nello shop di Gea Che poi vedete C'è quest'altro Che però ha gli occhi Che non mi convincono tanto Questo Oh, dove vai? Questo mi piace più Questo è perfetto Bene Dopo aver fatto ciò Vediamo I miei esperimenti Con le sirene inglobate Fra l'altro Queste sono quelle fatte Con la papa sclei Quindi Non penso ovviamente Esista una pasta Che si sgretoli nella resina A meno che non sia cotta bene Ma Non ci sia mai Allora Direi di tirare fuori Prima questa piccolina Allora Qui Non ho messo Foil Né niente Ho solo fatto Lo strato Con questo bellissimo mix Di glitter Sempre Inviatomi da Gea E praticamente Lo sto cercando In tutto ciò Questo Guardate Ha al suo interno Varie forme di glitter Fra cui anche Quelli a stellina E visto che sono sirene Pastellose Ci stavano bene Ora la smetto di blatterare E la giro Tranquilli Pronti? Via Carina Carina Che bello Temevo La pinna Invece è venuta Bellissima Va bene Adesso vediamo qui Allora L'esperimento che ho fatto Qui È stato mettere Due tipi Di foil Dietro C'è Uno Con Inutile che provi a spiegarvelo Perché non mi so spiegare Ve lo faccio vedere Allora ho messo uno strato di questo Che acquistai da Sparkly Trazer Shop E poi Ho messo uno strato di Angelina Non lo so Non ci ho mai provato A fare sta cosa Quindi Ieri mi andava di farlo Vediamo com'è venuto Oh Che Oh guardate Si si vede l'effetto Di quel foil Che bello Wow Adoro È bellissimo perché Sembra 3D Sembra che non stia Sullo sfondo Ma che Vabbè Ma avete capito Insomma L'immagine si vede Lo vedete anche voi Cosa sembra E anche qui la sirena È venuta abbastanza bene Sono soddisfatta Ci sono pochissime bolle Ok E wow Mi piace tantissimo Oddio Ok Penso che L'effetto delle sirene Lo farò sempre così Ma è un effetto così Calidoscopico Ecco È un po' calidoscopico Bene bene Sono soddisfatta E adesso Vediamo Questa Mega Planchette Ouija Fra l'altro Gea Mi ha mandato anche Questa tavola Ouija Gigante Però questa Ci voglio lavorare bene Perché ve la voglio far vedere Con un effetto particolare E vi faccio vedere Anche quella Più piccola Che trovate sempre Nel suo shop Ovviamente Lo stanno Trovate nel suo shop Non questa E questa è la versione E questa è la versione gigante Oh è bellissima L'altro Ed è Oltre ad essere grande È anche Molto alta Quindi Vediamo Questa è perfetta Se volete inglobarci Creazioni dentro Potete inglobarci Secondo me Interi mondi Interi paesaggi Qua dentro Come base Però comunque Anche così L'effetto dei flakes Mi piace Tantissimo Ok tesori Il mio video Finisce qui Spero tanto vi sia piaciuto So che sono pochissime creazioni Ma sono veramente Super soddisfatta Quella che mi ha colpito di più È stata sicuramente Questa Con l'utilizzo Di quel foil Perché l'effetto Mi piace da morire Penso Lo utilizzerò anche Nelle altre creazioni Senza Creazioni Inglobate Perché voglio vedere Come risulta Anche negli altri stampi Questo foil Mi piace La cosa è molto interessante Fatemi sapere Qual è la vostra preferita Cosa ne pensate Di questi stampi Delle creazioni Insomma Vi aspetto qui sotto Nei commenti Vi mando Un grandissimo abbraccio E ci vediamo al prossimo video Ciao